Un cumulo di macerie è quello che si vede all'uscita di un magazzino che ospita l'archivio storico della Cineteca di Bologna, Sasso Marconi, ad andare a fuoco una sezione di bobine di vecchi film precedenti al 1955, poco meno di un centinaio. Sono pellicole che tecnicamente sono definite infiammabili, fanno sapere dalla Cineteca di Bologna, perché è realizzata con nitrato di cellulosa, un componente che con il tempo disintegra in polvere marrone la stessa pellicola. Potrebbe essere questa quindi la causa dell'incendio, unita anche al maltempo e a pioggia e fulmini che in serata ha interessato la provincia di Bologna. Saranno comunque le indagini dei vigili del fuoco arrivati con diverse squadre da Bologna e Pianoro a fugare ogni dubbio. Le fiamme hanno interessato una sola cella delle dieci che compongono il magazzino. Il preziosissimo materiale della Cineteca è conservato appunto in sezioni per ridurre e contenere i danni. Il sistema di sicurezza ha funzionato, continuano dalla Cineteca di Bologna perché è partito immediatamente l'allarme. Sul posto anche i carabinieri per un sopralluogo, ma a quanto risulta non vi sarebbero segni di effrazione.